Ciao, mi chiamo Massimiliano Bielli e faccio parte della polisportiva Boppalorese. Questa sera abbiamo vinto il campionato Iron, abbiamo disputato i play-off con ottimi risultati e la partita di stasera è stata il coronamento di una stagione sicuramente impegnativa, visto che abbiamo cambiato anche coach durante la stagione in corso. Sono contento per il risultato ottenuto, per come hanno giocato i miei compagni e tutti ci hanno messo il cuore, la grinta e l'anima necessaria per portare a casa questo risultato.